Buongiorno da Monticitorio, grande entusiasmo oggi per l'elezione della nuova Ministra dell'Economia, Laura Forte, ex Presidentessa della Banca d'Italia, che è qui con noi. Buongiorno e complimenti Ministra. Grazie, grazie mille. Ministra, allora, quale progetti per il futuro? Beh, direi che l'economia del nostro Paese ha bisogno subito di interventi pubblici mirati alla crescita economica e quindi bisogna innovare le produzioni e i servizi per una società eco ed etico sostenibile. Utilizzare tutte le risorse umane senza sprecare né competenze né differenze significa investire sul futuro di tutti noi. Vedo anche il Ministro per le pari opportunità. Ministro, venga, buongiorno. Allora, una Presidente della Repubblica donna, una Presidente del Consiglio donna e poi un Ministro dell'Economia donna. Che ne pensa? Noi lavoriamo benissimo al fianco delle donne. Avrete l'occasione di collaborare insieme? Insieme alla Ministra abbiamo già parlato di un piano per sostenere i congedi obbligatori dei padri e ovviamente il tempo parziale volontario per facilitare il rientro al lavoro dopo la maternità. Insomma, politiche di condivisione delle responsabilità familiari. Se non ora, quando? A presto. Grazie a tutti.